Stanotte ho il singhiozzo che non mi fa dormire, non so che cosa fare se non berci su. Stamani ho il singhiozzo che non mi fa parlare, non so che cosa fare se non fare bubù. Cos'è questo singhiozzo che non so controllare, mi sposta la pancina, le spalle e un tutto andare. Io non capisco certe cose del mio corpo che fanno di testa propria senza chiedermi perché. Io non capisco certe cose del mio corpo che fanno come gli pare senza chiedermi perché.